ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora come vedi ho una due tre quattro cinque sei sette otto barchettine stampate con i filamenti ricevuto come campione allora sono questo è PLA stampato ad alta risoluzione un'ottima stampa finale questo è lo stesso filamento sempre PLA però è a bassa risoluzione infatti come vedi nei dettagli c'è qualche problemuccio e poi abbiamo questo è un altro PLA di colore bianco anche questo buono come finitura e poi andiamo sui pezzi forti 1 2 e 3 questi ragazzi sono il color legno o meglio PLA legno allora questo è il più chiaro eccolo qui ancora da rifinire perché come vedi internamente qualche filamento di PLA poi abbiamo quello poco poco più scuro eccolo qui anche questa è una buona stampa ancora da rifinire poi abbiamo quello scuro questo sarà il color noce sempre da rifinire però ottimo il materiale mi piace l'odore si ragazzi questo fa odore di legno super giusti tutti fanno odore di legno e questa è una diciamo una caratteristica che mi piace tantissimo poi passiamo a questi due e allora questi due sono PLA strong questo è un normalissimo PLA per quanto riguarda le temperature di estrusione però per quanto riguarda le caratteristiche tecniche questo è molto più diciamo forte per quanto riguarda e resistente per quanto riguarda la forza stessa del del modello questo invece ragazzi è una chiccheria eccolo qui ancora anche questo da rifinire due tre boom è gommoso eccolo qui lo prendo in mano e lo piego questo è il filamento gommoso eccolo qua che ritorna al suo posto con questo si possono fare tantissimi pezzi molto interessanti eccolo qui flessibilissimo però anche se diciamolo eccolo qui lo stravolgere tutto eccolo qui lui piano piano se ne torna in posizione torniamo al PLA questo abbiamo detto che il PLA strong questo è il PLA standard ma nella realtà giusto quanto questo è più resistente di questo ora lo vedremo insieme ho fatto due stampe una e uno due due stampe e di PLA strong e PLA standard ora proverò a farvi vedere quanto questo è più resistente come bank con un pugno vediamo se riesco a metterlo bene in favore di camera proviamo lo stesso pugno a tutte e due uno due tre valuta anche la struttura che diciamo molto ma molto piccolina sottile proviamo con questo in effetti ragazzi si è distrutto eccolo qui vediamo così se riesco a spaccarlo se anche con le mani questo si rompe vediamo questo se riesco a romperlo con le mani si è un po più duro e attenzione più resistente si sente che devo fare un tantino più di forza in tutto tutto sommato posso confermare che i filamenti mi piacciono continuerò se riesco a fare qualche altra stampa di prova per poterli appunto studiare al meglio niente ragazzi per questo video è tutto iscriviti al canale mi raccomando seguimi un like commenta fammi sapere tu quale materiale per la stampante 3d usi l'abs ragazzi non lo meglio l'ho provato però già lo sapevo ne era a conoscenza fa puzza ha un brutto odore e non mi piace infatti ho interrotto subito e vado avanti solo con il PLA la BS in teoria doveva essere molto più resistente del PLA però alla fine non mi posso intossicare avendolo al chiuso dentro preferisco non utilizzarlo va bene ragazzi ciao e al prossimo video grazie 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 grazie